ecco questo è il pedale del volume regolabile adesso c'è acceso la spia del bypass quindi il volume è al massimo e quello reale se si accende qui siamo al 18 per cento si può regolare 79 per cento 85 per cento dopodiché se si vuole il volume totale e